Milano forse non è una città d'arte, ma è una città ricchissima di arte. La forma urbana del centro storico, compatta, circolare, facilita una densità e una qualità di opere di architettura, di storia, di arte veramente molto notevole. Gli appassionati di ogni periodo e di ogni genere di arti figurative possono trovare dei punti di grandissimo interesse, di assoluto valore internazionale. Ad esempio non tutti sanno che Milano è stata per oltre un secolo, dall'anno 286 all'anno 402, la capitale dell'impero romano. Dell'antica Mediolanum resta abbastanza poco, ma il bellissimo colonnato corinzio davanti all'antica basilica paleocristiana di San Lorenzo è un segno monumentale, grandioso di questa epoca. Così come gli scavi che si trovano sotto il sagrato del Duomo, dove si può ammirare ancora l'antico battistero fondato da Sant'Ambrogio. E poi ancora il museo archeologico che si trova in corso magenta all'interno dell'antico monastero di San Maurizio e ingloba nelle sue strutture architettoniche anche due torri dell'antico circo, il luogo dove si svolgevano le corse delle bighe, annesso al palazzo dell'imperatore. Insomma anche dell'antica Mediolanum si possono trovare dei resti importanti.